Buon pomeriggio cari amici, buon pomeriggio. Prima di tutto grazie per le parole così di apprezzamento per questa avventura che mi avete scritto questa mattina. Devo così un po' scusarmi perché sono sembrato molto più permaloso di quello che sono in realtà. Tutti abbiamo una punta di permalosità, ma stamattina ho un po' ecceduto effettivamente, non volevo essere così polemico, non voglio farmi vedere così in questo canale. Comunque grazie e come sempre continueremo a discutere del nostro Milan e delle nostre vicende. Video adesso però dedicato, tanto Gallo canta, video dedicato al mercato, video dedicato al mercato ma non al mercato di adesso, sul quale faremo un discorso domani anche da un punto di vista economico, quindi andremo a vedere un po' il saldo di questo mercato e più in là capiremo la bontà o meno del lavoro fatto, sicuramente bontà dal punto di vista di bilancio. Capiremo se questo sforbiciare di giocatori sia stato propedeutico a una campagna acquisti fatta in modo diverso e questo lo sapremo solamente tra qualche mese quando, scusate, quando farà caldo, farà più caldo e qui la natura sarà completamente risvegliata. Oggi però parliamo di un mercato che fu, e cioè del mercato di Mirabelli. Nella famosissima estate del 2017, quell'estate dell'arrivo di Yong Gong Li, del suo secondo Han Li, che ricordiamo in una mirabolante presenza allo Juventus Stadium, prima di entrare formalmente in carica, domandare quanto costasse di bala, ve lo ricordate? Tutte queste cose che poi abbiamo scoperto essere fondamentalmente delle grandissime sceneggiate, però al di là di questo in quell'estate ci furono delle operazioni reali, cioè si spesero dei veri soldi. E adesso andiamo a vedere un po' che cosa accadde e quale è stato l'ascito di quella campagna acquisti, perché ancora adesso stiamo pagando delle scelte, possiamo dire, discutibili. Allora, naturalmente, per voi, per voi, ho un piccolo appunto, perché è giusto avere sempre dati numeri precisi. Dunque, in quell'estate il colpo più importante fu quello di Bonucci, 44 milioni di euro. A seguire, André Silva per una cifra intorno ai 35, quindi Cassi 32, Kalinic 27, Conti 24, Ciaranoglu 21, Biglia 19, Musacchio 17, Riccardo Rodriguez 14, Borini 5 e qualcosa, e poi ci fu l'acquisto di Antonio Donnarumma per meno di un milione di euro. Questo fu il mercato di Mirabelli e Fassone. Oh, naturalmente questa è la fredda cronaca, è il freddo elenco dei numeri, ma intorno a quella avventura dal sapore vagamente casereccio e epico, per certi versi, c'è tutta la mistica, naturalmente, di una squadra che lasciava l'era Berlusconi per entrare nell'era cinese. Ricordate il famoso derby, il primo derby cinese, contro il Suning, il gol di Zapata all'ultimo minuto, eccetera, eccetera, tutte cose che hanno scritto la nostra storia recente, che non è fatta di vittorie, ma è fatta per l'appunto di un sacco di contabilità e tanta, come dire, tanta apparenza e poca sostanza. Questo è il mio pensiero. Di quell'estate, noi ricordiamo ovviamente la campagna acquisti, però ci fu anche una campagna cessioni che tutto sommato non fu spregevole, perché, me lo sono scritto, furono registrate a bilancio circa 36 milioni di euro di plusvalenze, tra, diciamo, cessioni di giocatori di prima squadra e cessioni di giocatori primavera. Adesso però mi siedo, così parlo un po' più chiaro, anche perché comincio ad avere un'età. Naturalmente tengo il telefono qua vicino, così mi sentite bene. Dicevo della cessione, delle cessioni, quelle di Niang, quelle di De Sciglio, il grande capolavoro di Mirabelli fu quello, riuscire a vendere De Sciglio alla Juve per 12 milioni di euro. Quella fu la grande conquista di Mirabelli. Per quel che riguarda l'entrata, che cosa c'è rimasto di quella campagna acquisti? Che cosa c'è rimasto? C'è rimasto che sì, c'è rimasto Andrea Conti, Ciaranoglu, Biglia, Musacchio e basta sostanzialmente. Se consideriamo che Andre Silva è un prestito, quindi in realtà anche Andre Silva è ancora con noi. Di tutta questa squadra, perché sono 11 elementi, alla fine chi possiamo dire che ha reso secondo le aspettative? Praticamente nessuno. Praticamente nessuno. Solo Borini possiamo dire che ha reso secondo le aspettative, perché degli altri Bonucci è andato via dopo una stagione, è scappato e è tornato alla Juventus. Andre Silva non stiamo neanche a parlare. Che sì, sapete come penso. Ecco, diciamo che Che sì è stato l'unico a comunque giocare e avere la titolarità in questo Milan insieme a Ciaranoglu e insieme a Musacchio. Su Ciaranoglu ci siamo già detti. Su Musacchio e Riccardo Roderigues diciamo che sono degli, una volta si sarebbe detto onesti mestieranti. E quindi diciamo che, diciamo, diciamo che tutta questa avventura del cinese, di Yongongli, a di là del fatto di essere finita come è finita, ci ha lasciato un'idea, secondo me. E cioè l'idea che non si possa fare la rivoluzione totale in una sessione di mercato e soprattutto non la si possa fare acquistando giocatori, come dire, con caratteristiche che non sono né quelle che voleva l'allenatore. Perché nel caso di questa campagna acquisti c'è forse qualcosa che possa ricondurre al Montella dell'epoca? Montella giocava con il 4-3-3 in quel Milan e di giocatori che potevano andare bene per il 4-3-3 ce n'era qualcuno. C'era Deulofeu che non fu riscattato, c'era paradossalmente lo stesso Campos che tanto male a Siviglia non sta facendo e quindi Pasadic. Cioè, diciamo, giocatori che all'epoca ovviamente non ci facevano entusiasmare ma ancora non sapevamo che di fronte ci saremmo trovati altri anni di vacche molto molto magre o di mozzarella come disse una volta Berlusconi. Dopo aver pasteggiato champagne per tanti anni si può mangiare anche un po' di mozzarella. Direi che fu il tutto, soprattutto condito da questa grande voglia di show. Passiamo alle cose formali, tutte queste cose qui che fecero scadere un po' nel ridicolo e fecero quasi andare, non dico il secondo piano, la campagna acquisti perché fu una campagna acquisti comunque di giocatori che all'epoca erano considerati importanti perché Cialanoglu, Riccardo Rodriguez erano giocatori che in Bundesliga facevano in modo loro la differenza. André Silva c'era stato venduto in un certo modo, Bonucci non stiamo neanche a parlarne e quindi Conti è che sì, erano due giocatori che nell'Atalanta avevano fatto molto bene per cui c'erano anche speranze e ambizione. Poi dopo il tutto crollò in pochi mesi come sempre perché naturalmente se non c'è una società di un certo tipo alle spalle, se il progetto tecnico non è chiaro, motivo per il quale invoco sempre che l'allenatore, il direttore sportivo e tutti quanti si parlino, porca miseria, si parlino. Se viene preso un allenatore va data fiducia, poi dopo abbiamo sentito tutte le storie che volevano mandare via Montella, avevano provato a prendere Conte, poi Spalletti eccetera eccetera, insomma tutte cose che poi non abbiamo nemmeno riscontrato e non sappiamo se siano dicerie o verità. Resta il fatto che fumo sulla bocca di tutti e sulle prime pagine dei giornali mondiali, addirittura mi ricordo che le quote uscite a luglio, ad agosto anzi dopo i preliminari d'Europa League per la vittoria finale ci davano favoriti noi l'Arsen, tanto per dire che c'era un grande hype intorno a quella campagna acquisti e a quella squadra e poi alla fine in realtà si rivelarono una serie di investimenti sbagliati fondamentalmente che ancora stiamo cercando di ripulire. Perché poi tra l'altro non è che furono spesi pochi soldi, cioè il totale dava più di 240 milioni di euro e salta all'occhio guardando la lista 27 milioni di euro per Kaninic, i 32 perché sì, va bene che voglio dire guardati con gli occhi di adesso, guardati con gli occhi dell'epoca 32 milioni di euro per uno dei centrocampisti più interessanti del campionato, potevano anche non essere molti ma 35 milioni per Andre Silva, ragazzi miei, lì ci voleva proprio una bella dose di coraggio oppure una bella dose di connivenza con altre cose, ma insomma lasciamo perdere. Quindi di tutta quella campagna acquisti alla fine che cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo di Mirabelli che va ancora in giro adesso a parlare e a dire che no, lui aveva fatto bene. Ci ricordiamo di Fassone che è ancora in causa con la società e ci ricordiamo di una serie di giocatori che sono stati come detto triturati probabilmente all'interno di questo Milan e che solo adesso cominciano ad avere un minimo di senso, anche se io spendo un minuto per Ciananogo, anzi molto meno, prima di dare giudizi definitivi e una valutazione sulla sua esperienza a Milan non mi basta, naturalmente i due gol dell'altra sera che sono stati belli e importanti, ma voglio una conferma e voglio soprattutto capire se lui può fare parte di un Milan che in testa io, poi ovviamente c'è anche la grande incognita che il Milan che in testa io rimanga lì e che in realtà non si riesca a fare nulla di quello che io vorrei che si facesse, come dicevo ieri ad esempio un allenatore di un certo tipo, ma ripeto staremo a vedere. In ogni caso fu una campagna acquisti fallimentare per via dei risultati perché poi alla fine quello conta e su quello dobbiamo contare, dobbiamo fare giudizio e ripeto tutto poi venne anche un po' oscurato dalla vicenda di Yongong Li, di tutta quella storia dei bonifici che non arrivavano, i soldi e quant'altro, poi dopo Gattuso, insomma ci furono tante situazioni che resero molto spiacevole quel periodo e il ricordo di quei pochi mesi di Baldoria è stato subito cancellato da tutto il resto e adesso faticosamente stiamo provando a ricostruire? Stiamo provando a ricostruire? Boh, non lo so. Come dicevo all'inizio del video la prossima estate capiremo meglio se quello che si sta facendo adesso ha una valenza o tra l'altro vi lascio con questo pensiero che credo di aver scritto oggi a un amico del canale, se siamo fortunati, ma dobbiamo essere molto fortunati e molto bravi, o Maldini, Boban e Massara si rivelano tre fenomenali scopritori di talenti, ma proprio fenomenali, oppure abbiamo un grosso problema. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato da mese, si chiama Tamese visto che è francese, centrocampista che aveva proprio le caratteristiche che servivano a noi, preso dal Nizza per 8 milioni di euro, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, questi sono gli acquisti che noi saremmo dovuti andare a fare, è una specie di meite un po' meno fisico, un po' più tecnico, sarebbe andato molto bene al cianco di Benasser, vabbè, mi sono dilungato anche troppo. Allora ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate di quel periodo, di quella campagna acquisti, mettete un like al video, vi iscrivete al canale e noi ci risentiamo perché comunque oggi è l'ultimo giorno di mercato.